bentornati a patchwork ciao da valentina ed oggi costruiremo un portacolori da scrivania per i nostri ragazzi per realizzarlo utilizzeremo del cartone dal quale ricaveremo due forme come queste che ho già preparato cominciamo ricavate le nostre forme adesso passeremo ad unirle in questo modo ecco qua ora da un altro pezzo di cartone ricaveremo questo cerchio per fare la base di questo portapenne ricavata questa forma andremo ad incollare tutto intorno una striscia di cartoncino colorato ricavato questo andremo ad inserire quello che abbiamo fatto prima sempre col cartoncino andremo a creare due forme come queste che saranno la punta del nostro portacolori una volta incollati i pezzi di cartoncino l'una sopra l'altro andremo a a creare un cono per dare la forma al nostro portacolori adesso andremo ad incollarlo sul nostro portacolori ecco il nostro portacolori ultimato provateci anche voi vi aspetto alla prossima puntata di patchwork ciao